Se trovo dei predoni il video finisce Bella ragazzi volevo ricordarvi che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'itemshop nella sezione supporta un creatore Inserite il codice creatore porto come vedete a schermo Accettate Da ora ogni volta che farete un acquisto mi arriverà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi ci stiamo dirigendo verso Celti per tentare la sfida di oggi che se trovo dei predoni il video finisce Allora ragazzi la sfida viene persa esclusivamente se io trovo dei predoni che stanno camminando a tutti gli effetti La sfida infatti non vale se per esempio io trovassi una meta che appunto permette ai predoni di cadere Mi spiace molto man non te lo meritavi ma mi hai fatto cadere il fucile a poppa davanti agli occhi Non avrei potuto fare altrimenti Siamo attenti perché super dovrei avere un nemico Quindi direi di stare attentini Mi sono potuto sparare subito la pozza per non perdere tempo Credo di aver fatto bene Pozze piccole vabbè ovviamente E te pareva che questa cosa non era stupida Ok Vabbè comunque il pericolo di trovare i predoni ragazzi io non so quanto sia alto Perché non ho idea di se i predoni diciamo spawnano in zone precise oppure lo spawn è un po' casuale Io questo raga non ne ho idea lo dovremo un po' scoprire assieme Tra l'altro questo è il primissimo tentativo che faccio Spero di non trovarli E niente quindi vediamo raga Allora qui dentro c'è qualcuno l'ho visto subitissimo Va bene ok Va benissimo Non so cosa sia succedendo in questa partita Questo tipo è inquietantissimo Mi confonde Te ne vai gentilmente Ah ma faccio così lo elimino Ok va bene grazie per la kill Solo che l'ho eliminato Ma credo che sia ancora in vita sinceramente Infatti sta facendo ancora casino sotto Dovrebbe starci un altro tipo in quella casa Sì lo vedo mi sta vedendo mi sta vedendo mi sta guardando Aspettami tutti No sta sotto ok Esci dalla porta lo trivello Dai esci dalla porta T'aspetto Ragazzi Io sento la canzone dei predoni Non so se la sentite Io non li voglio trovare Semplicemente prendo e me ne vado Se non li vedo non esistono Se non li vedo non esistono Ma c'era la canzone Me ne vado Se non li vedo non esistono Spero di stare andando nella direzione corretta Se non li vedo non esistono Ok Va bene peccato Mi sarei voluto prendere la kill di quel nemico Che era uscito sulla sinistra Ma immagino fosse proprio Diciamo nella direzione sbagliata Ecco diciamo così Che cosa inquietante raga Subito ho praticamente trovato i predoni Però ho sentito solo la canzuccina Quindi mi do il diritto di continuare il game Ma cavolo che fortuna eh Ne avessi visto uno sarebbe Già finito il video Cavolo ok ok ci sta Mi piace Mi piace questo rischio Ok sono full e sento della gente sparare Io ora sento tanta gente sparare Non vorrei fossero predoni Potrebbe darsi Ma potrebbe anche darsi di no Che di No Credo siano predoni Sì sì ragazzi Credo siano predoni Io nel dubbio vado nella direzione opposta Li ho visti dalla minimappa Erano 4-5 persone E' impossibile che fossero tutti i player normali Quindi non fa nulla ragazzi Vediamo Più che altro spero che questo ultimo non mi veda Perché se mi vede sono morto Sto in acqua Questo capito come mi elimina Bello easy E' promesso mi chiamo mario Non è vero Non mi chiamo mario Ma lui che ne sa in fondo Promesso promesso Dove sei Dove sei andato In quella direzione Bella per te fra Bella per te Ho sbagliato qualche hit Qualche hit essenziale Ma ci sta Ci sta È un problema È un problema Tra la lero Tra la la Farì Faripula Dove è andato Scappare Fra 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 Dove è andato Sotto al ponte Madonna Fra mi avevi imbrogliato tantissimo GG Bella mossa infame questa Cavolo Non avevo proprio capito Che era andato lì GG Uno degli escape più confusionari Che abbia mai fatto Cioè vabbè Non esageriamo Però Cioè Ma ha preso proprio De in giro Sto tipo Oh comunque non è possibile Ragazzi Che in una sfida del genere Ho trovato subito Un botto di predoni Fortunatamente Diciamo Senza averli visti In maniera diretta La sfida non può essere Considerata persa Solo che io Sto riandando Nella zona di prima Dove i predoni ci stavano Ragazzi Li sento Stanno a sinistra Mannaggia La miseria Ma non posso perdere Le sfide così Li sento Sono a sinistra Non posso andare a Celti Li sento benissimo Li sento benissimo Eh ragazzi Ma la safe sta lì Cioè la safe sta Nella direzione dei predoni Che faccio Mi devo fare un mega giro Proviamo così Dai Guardate Guardate Questa è anche la cometa La loro cometa Cavolo Ma che è sta sfida Proprio cringe Non lo so Io i predoni li incontro una volta Ogni dieci game Ma stavolta Non ho capito Ne ho trovati già due A cometa pure Cioè che sfortuna Siamo ancora in venti Non siamo pochi Attenzione Era un bot Non poteva essere un nemico normale Doveva per forza essere un bot Un tipo del genere Questo evito per ora Non fa niente per il fucile a pompa E sì ragazzi Devo avvicinarmi Necessariamente in safe E io che volevo Sciosciarmi il naso Bella per il mio naso Non sciosciato Perché Perché vengo gioinato Con sta gente Cioè Sono veramente così scarso Ma seri Ma perché Dai Cioè io non mi lamento Così faccio win easy Sia chiaro Però Non lo so Sembra che il gioco Mi piglia in gira A un certo punto Che arma viva Will Vabbè No 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 Diciamo che non ci interessa più Mi devo ciasciare il naso Velocemente A cosa veloce A cosa veloce Ok Ho messo una jump Calmi tutti Vieni qui fra Che dite lo sparo di già Io lo riuscirò a colpire Però Gli darei giusto un paio di colpi Non Non credo sia il caso Potrei raggiungerlo con la stessa Jump Non lo so Io ce n'ho una No Ok Allora avviciniamoci in quella zona Raga Avviciniamoci Dovrebbe stare sulla barca Cioè sulla Sulla nave Che barca Più che Più una nave Che una barca Un Misty Meadows Più che altro Accetterei volentieri No scar Qualcosa di più serio A livello di armi Perché Si sto messo benino Ma non è da endgame Un set del genere Sì vabbè ciao Quel tizio è scomparso Va bene Credo effettivamente Che sia andato in un'altra zona Mi ha un po' preso in giro Però Vabbè Non fa nulla Quindi Vediamoci un attimo il legno qua Facciamoci full A posto E dirigiamoci Verso la safe Facciamo così Tavolino Pozza grande Cavolo mi potevi dare Quello Un'altra splash Avrebbe fatto molto comodo In questo caso La safe si sta avvicinando Questa zona non è stata Lutata da nessuno Quindi stiamo attenti Mamma mia Stava in reboot Pensavo fosse Fosse un predone Sono nel panico Perché ha fatto La stessa animazione Dei predoni Cioè Avete capito in che senso Sì cavolo Raga ma quante pozze Mi ha dato Dai Dai cavolo Mamma mia Quante ne sto lasciando Veramente Secondo me Non ho stupidato Quello che sto a fare Ho lasciato tipo 4 o 5 pozze dietro Spero che non vi torneranno utili Lo spero con tutto me stesso Intanto i predoni A questo punto della partita Ci possono ancora essere Perché io in endgame Non è che li abbia visti spesso Ovviamente ragazzi La sfida non la perdiamo In questo game Continuiamo Ne facciamo poi un altro Sono due nemici Ok Panico Pensavo che fossero predoni Perché hanno entrambi Stavano entrambi Fightando con armi di predoni Fucile da caccia Da predoni Anche il lanciarazzi Ok Ok io mi avvicino In maniera molto stealth A questo tipo E appena quello va nel panico Esatto in questo momento Lo colpisco Peccato Volevo farmi entrambe le kill Vabbè ma quello è morto Cioè l'ho distrutto Peccato per lui Che va di lanciarazzi? No ma voglia Se va di lanciarazzi Bella per te fra GG Mi spiace per te Ma GG Quetante il tipo Il lanciarazzi Poteva farmi molto male Ma fortunatamente Non era molto sveglio Il tipo Quindi mi ha fatto fare Una kill molto easy Più che altro Mancano quattro persone Potrei stare a nove kill Perché quella kill Ok che non me la meritavo Sarebbe stata rubata Ma voglio dire Ma mudevo via senza problemi Aspettate che è quella gente Ah un tizio corrompino Ok Non lo so raga Ogni volta che vedo qualcosa di strano Dico so predoni Perché io non so abituati A vederli Quindi il mio cervello Associa qualunque cosa Ai predoni Che la safe è da questo lato Quindi avrebbe senso Mettersi in realtà È in high ground Attenzione c'è gente Sì infatti sì sì C'è 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 Sta qua Che brutta mira L'avrei potuto praticamente eliminare Perché si è bloccato così Non so se ti è convenuto Guarda fra Vabbè contento te Ah qua sta proprio Ehi Vabbè sì sì Hanno fatto la ricostruzione qua Hanno restaurato tutta sta zona In pratica Bella per voi Sono là Sono là Stanno cecchinando Mi avvicino Sempre di soppiato Sempre stealth Come piace a noi Scegliamo un paio di botte di assestamento E arrivederci Mi avvisto Senti tutti Mi aveva visto Ma non è stata abbastanza veloce GG per lui Ok Pessima mossa Pessima mossa Pessima mossa fratelli C'è un tracking che fa paura Vi c'è qua Vi c'è qua Famo sto fight Tanto non mi sfondi Tanto non mi sfondi Lo sapevo che non mi avresti mai sfondato le scale Che vuoi fare? Sei sceso Sei sceso Perché? Perché? Sono un po' confuso dal suo andamento Un po' confuso Un po' confuso Confuso come lui Muto fratelli Vai Partiamo col prossimo game direttamente ragazzi Stavolta però Facciamolo Facciamolo meglio Stavolta Concludiamolo Stavolta troviamo Ma che hanno le mie maniche che non andavano? Stavano a fuoco C'era ancora la sciattiva? Ci sono 3, 4, 5, 6, 7, 7 persone E io c'ho una pistola e ci sta andando contro Fra Sono il pro player della vita Prima c'è un po' di legnino Che ci può sempre tornare utile Cioè poi In realtà sta cosa È il rassunto della mia vita Allora io prima Appena sceso ho trovato non so quanti predoni Ora che mi servono Secondo me non ne trovo manco uno Questo è il rassunto della mia vita ragazzi O meglio della vita di tutti Quando vogliamo qualcosa non la troviamo mai Poi quando non ci serve la troviamo sempre Cioè Parliamoci caro quante persone stanno nella mia situazione Dai tantissime Tra l'altro vi ricordo ragazzi Non so se già l'ho detto all'interno del video Però ve lo ricordo che fa sempre bene Che io ogni sera ormai Da quasi 5 mesi Ragazzi sono in live Sono in live sul sito Viola Quindi mi raccomando ragazzi Andate in descrizione Nella sezione di live streaming E iniziatemi a seguire Perché Perché ora muoio No scherzavo Perché praticamente ogni sera ragazzi Ogni sera siamo in live sul sito Viola Per giocare assieme A Fortnite Ma anche per Escape Anche a Code Warzone A tanti giochi Quindi mi raccomando Iniziatemi a seguire Che stasera saremo in live Ok Bello fresco come la piuma Nammo Ok allora Cosa? Cosa? Eh vabbè Eh vabbè fratelli Doveva andare così Che stasera saremo in live 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 Che stasera saremo in live